Cosa è la risposta di Toscana Aeroporti? Tutto questo poteva essere condiviso e gestito insieme perché ha prodotto delle cose negative a riguardo a dipendenti, soprattutto quelli che da 10 anni lavorano in aeroporto, quelli che aspettavano e tuttora aspettano un classico posto fisso o comunque una riconferma, un posto a tempo determinato che gli possa permettere chiaramente di crearsi una famiglia. Questa è la base fondamentale per cui noi ci siamo mossi tutti insieme, unitariamente anche alle sigle sindacali di Firenze e a livello regionale, perché questo succede a Pisa ma succede anche a Firenze. E chiaramente quando si parla di posti di lavoro il sindacato c'è e quindi noi cerchiamo di rappresentare tutti i dipendenti di Toscana Aeroporti.